L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio del CAP Nord-Ovest, un bilancio positivo dopo qualche anno di difficoltà. Ma quello che ci interessa capire è dove sta andando oggi il CAP Nord-Ovest. Sì, ovviamente la soddisfazione è grande perché dopo anni di lavoro per cambiare la tendenza negativa dei bilanci ci ha portato a dei risultati positivi e questo ci permette di pensare di un futuro più roseo. Noi stiamo lavorando per una regionalizzazione del consorzio agrario, per avere una maggior massa critica, per cui riuscire ad avere un'azienda più grande su un territorio vasto come il territorio piemontese ci permetterebbe sicuramente di avere dei risultati migliori. Come ci hai detto, abbiamo detto un bilancio positivo che consentirà anche di guardare con maggior fiducia verso quella progettualità che la dirigenza in qualche modo sta cercando di proporre e di portare avanti. Sì, proprio così. Il risultato economico del 2016 che chiude positivo di circa 50.000 euro fa guardare con molta più speranza e tranquillità al futuro. Il consorzio agrario è una società che negli ultimi anni è particolarmente forte dal punto di vista finanziario e patrimoniale. Tuttavia, l'anno 2014 e 2015 avevano dato dei risultati economici non soddisfacenti che erano motivati da episodi straordinari che erano avvenuti durante questi esercizi. Ora, superati questi due anni di difficoltà e con notevole sforzo da parte della struttura supportata e coordinata dal Consiglio di Amministrazione, ci ha permesso di fare un importante taglio di costi per ripristinare un equilibrio. Il consorzio agrario è una società cooperativa, senza scopo di lucro. Ciò significa che non ha bisogno di realizzare degli utili come se fosse una SPA, ma è indispensabile mantenere l'equilibrio economico al fine di non compromettere la continuità gestionale del futuro dell'azienda. Questo consentirà non solamente di portare a termine questa regionalizzazione, ma anche quello di continuare a erogare e di implementare quei servizi che sono i contratti di filiera, che sono non solamente la fornitura di mezzi tecnici, ma anche proprio andare a dare delle risposte economiche alle imprese di tutto il Piemonte a questo punto. L'obiettivo di un'azienda come questa, che è una cooperativa dei soci produttori, quindi una cooperativa degli agricoltori, deve darsi come obiettivo i risultati e delle prospettive economiche per le aziende. Noi in questi anni, attraverso i contratti di filiera del grano, del mais, della soia, poi abbiamo fatto contratti anche innovativi, il grano saraceno, ci siamo portati a farsi prendere coscienza della potenzialità che hanno questi strumenti. Per fortuna a oggi il consumatore sta capendo cosa vuol dire mangiare il prodotto del territorio. Questo ha portato l'industria a convertire un pochettino il modo di pensare. Stanno cercando dei prodotti locali appunto per riuscire a smarcarsi un po' da quello che è anche la concorrenza estera. Per cui questo ci porterà a poter lavorare sul territorio piemontese in maniera assolutamente innovativa e moderna e questo dovrebbe anche stimolare gli agricoltori stessi a partecipare a queste filiere in maniera importante perché poi i risultati ci saranno. Parlando concretamente, la crescita dei servizi è avvenuta oggi a 360 gradi, si guarda a quella che è l'agricoltura 4.0. Esatto. Il Consorzio Agrario è una cooperativa degli agricoltori. Tanto è vero che abbiamo cognato lo slogan benvenuti a casa vostra. Essendo degli agricoltori, l'agricoltore non vuole una remunerazione in denaro ma vuole un servizio. Cerchiamo con una rete di vendita capillare ma che sia efficiente ed efficace di raggiungere il maggior numero di agricoltori possibili e dislocati sul territorio. All'interno di questi punti vendita andiamo a fare sia commercio di prodotti, con dei prodotti che sono a nostro marchio, prodotti da noi. Abbiamo delle linee che sono esclusive per noi, dalla SIAPA degli antiprassitari ad altre linee di concimi di sementi che sono in esclusiva dotati i consorzi agrari. La mission dei servizi si esplica nel dare un indirizzamento culturale, nel favorire questi contratti di fidiera, nel garantire la remunerazione il più possibile adeguata all'agricoltore. Anche tramite strumenti finanziari che possono essere quelli di finanziamenti agevolati, per non dimenticare soprattutto il punto di forza del consorzio agrario che è una rete di assistenza specializzata. Abbiamo personale sul territorio che è in grado, su tutte le culture in cui operiamo, di dare comunque un'assistenza sia nel punto vendita sia in campo all'agricoltore. Grazie